Allora, possiamo riprendere la seconda parte dell'esercizio occupandoci del punto 2. Il punto 2 parte dall'inserimento da parte dell'utente di un valore numerico intero n nella casella passi. Alla pressione del bottone cammino si cerchi il cammino semplice di peso massimo che soddisfi queste condizioni. Quindi un cammino all'interno del grafo di lunghezza esattamente pari a n, quindi non ci serve il cammino più lungo. Ci serve un cammino che abbia esattamente lunghezza pari a n, il vertice iniziale coincida con il tipo di porzione selezionato nel punto precedente e non contenga né cicli né vertici ripetuti. Quindi questa è una variante di una ricerca di un cammino massimo, però non è un cammino emiltoniano che deve necessariamente toccare tutti i vertici. Non ci interessa quali vertici tocchi, purché ne tocchi n diversi tra di loro e non ripetuti e che il vertice di partenza sia quello che vogliamo noi. Quindi in qualche modo dal vertice di partenza generiamo tutti i possibili cammini di lunghezza n. È chiaro che possono essere un certo numero. Quanti sono i cammini di lunghezza n? Se noi ad ogni vertice potessimo avere un certo numero di adiacenti, a ciascuno degli n passi avremo un certo numero di scelte. Un numero di scelte che è pari grossomodo al grado di ciascun vertice. Quindi se il vertice di partenza è a grado 5 vuol dire che lui avrà 5 adiacenti al primo passo. Poi al secondo passo, se ciascuno di questi avesse grado 5 potrò avere chiaramente al netto di archi che torno indietro, che non devo considerare perché ritornerebbero su archi che ho già visto, ma nel caso peggiore se avessi grado 5 avrei 5 possibilità al secondo passo per ciascuna delle 5 possibilità al primo passo. Quindi la complessità di cui stiamo parlando grossomodo è pari al grado dei vertici, scusate, n elevato al grado dei vertici. N o... No, il grado dei vertici è elevato ad n. Quindi alla prima scelta ho un numero di scelte, al primo passo ho un numero di scelte pari al grado, alla seconda scelta ho un numero di alternative pari al grado, e quindi grado per grado, al terzo passo ho di nuovo un numero di alternative pari al grado, e quindi alla fine avrò grado medio dei vertici elevato a n, elevato al numero. In realtà questo, qualche piccolo esperimento che abbiamo fatto col grafo, ci fa dire che probabilmente questo è un grafo abbastanza poco denso, al part cap o pochi altri che hanno molte connessioni, però molti di altri vertici o sono isolati come abbiamo visto in qualche esempio, oppure hanno magari solamente un vicino o due, e quindi in realtà questa esponenziale che cresce esponenzialmente con n, in realtà poi tende probabilmente a non essere poi così penalizzante dal punto di vista del tempo di esecuzione reale. Teoricamente il caso peggiore è grado del grafo elevato a n, quindi cresce esponenzialmente con n, ma spero che la soluzione in realtà praticamente sia facilmente gestibile, perché questi grafi non saranno troppo densi, saranno probabilmente, torneranno indietro, quindi forse non andrò molto avanti, ma questo lo scopriremo solamente implementandolo. Allora, questo ovviamente è il tipico esercizio di risolvere in modo ricorsivo, perché non mi posso ricondurre a nessun algoritmo noto, e quindi genererò tutti i cammini possibili che abbiano queste caratteristiche. Quindi mi predispongo per una procedura ricorsiva, lo posso fare direttamente all'interno della mia classe modello, nel model, magari creo un branch separato per il punto 2, così non confondiamo le cose, switch to a new branch, soluzione del punto 2. Ok. Chiedo scusa. Allora, dentro il modello a questo punto ci facciamo un po' di spazio in fondo per la nostra procedura ricorsiva. Procedura ricorsiva che dovrà costruire quindi un percorso, un cammino. Noi possiamo immaginarci un cammino come un insieme di vertici, quindi vertice 1, vertice 2, vertice 3, vertice 4, così via. Ad ogni livello di ricorsione noi abbiamo una soluzione parziale, cioè un cammino parziale, fatto di vertici che partono da quello di partenza. Questo V1 sarà il vertice di partenza selezionato dall'utente, la porzione di partenza selezionata dall'utente, e contiene un certo numero di vertici. e questo cammino arriverà alla condizione terminale quando sarà lungo N elementi. Quando questo cammino contiene esattamente N elementi, adesso dobbiamo fare attenzione se sono N vertici o N archie, perché c'è la differenza di 1, adesso andiamo a rileggere il testo, ma quando trovo N elementi vado a calcolare il suo peso. E se il peso è massimo, lo salvo e sarà, diciamo così, il mio risultato candidato. Quindi andiamo solo a rileggere bene un cammino di lunghezza pari a N, quindi la lunghezza di un cammino è il numero di archi di cui è composto, e quindi tendenzialmente dovrebbe essere composto da N più 1 vertici, per avere N archi e quindi sommare il contributo di N pesi diversi. N più 1 vertici di cui il primo ovviamente è il versi di partenza, che è l'unico fisso. Ok, allora, proviamo a immaginarsi la nostra procedura ricorsiva. La nostra procedura ricorsiva, privata, void, diciamo così, search, che cosa riceverà? Riceverà una soluzione parziale, quindi mettiamo qua, descriviamo un po' quello che stiamo facendo. Quindi abbiamo la soluzione parziale che è un cammino che parte dalla sorgente, dal vertice di partenza. un cammino di una certa lunghezza. Quindi il livello della soluzione è la lunghezza del cammino parziale. La condizione di terminazione è quando il cammino ha lunghezza N, cioè N più 1 vertici. La generazione, diciamo così, la funzione da valutare è il peso massimo. E infine la generazione delle soluzioni è quella di aggiungere gli adiacenti che non siano ancora nel cammino, presenti nel cammino. Per ogni vertice aggiungerò i suoi adiacenti che non siano ancora presenti, diciamo così, verso l'iniziale del cammino. la soluzione dell'avvio della ricorsione avrò solamente un vertice che sarà quello di partenza che è fisso. questa è la carta di identità della ricorsione che stiamo cercando di impostare. quindi se è così la procedura ricorsiva riceverà un cammino parziale che sarà una lista di vertici la list di string parziale perché per noi i vertici sono stringhe parziale il livello e per ora torniamoci qua vediamo se ah, è ovviamente n che è il valore a cui dover tendere il valore massimo di lunghezza e quindi che cosa che cosa mi chiederò allora n quindi livello mi dice quanti elementi ho già nel grafo nella soluzione parziale e lo dovrò confrontare con n allora dobbiamo fare attenzione qua a ragionare un attimo sul valore di n di livello quindi per la soluzione 1 quindi all'avvio della ricorsione noi avremo una cosa che ha il vertice di partenza e lo chiamiamo livello uguale 1 perché ho già un vertice poi avremo la partenza e poi la procedura ricorsiva aggiungerà qualche cosa un certo vertice e a questo punto sarà il livello 2 quindi livello 2 vuol dire che ho già due elementi di cui uno è quello fisso e ovviamente dovrò aggiungere il terzo cioè quello in posizione 2 del vettore quando io sono nella condizione terminale partenza v v v puntini puntini v quindi diciamo così questo sarebbe v sarebbe già il secondo vertice perché il primo è quello di partenza questo sarebbe il terzo questo sarebbe il quarto e questo sarebbe l'n più unesimo perché se il cammino deve essere lungo n archi avrà n più 1 vertici siamo nel caso in cui il livello è uguale a n più 1 questa è la condizione di terminazione quindi facciamo attenzione se il livello parte da 1 o parte da 0 e se il punto di arrivo è che il livello sia uguale a n o sia uguale a n più 1 io ho fatto partire il livello da 1 perché in realtà nella soluzione parziale c'è già un elemento nessuno vieta di farlo partire da 0 e quindi qua ci sarà avremo un n anziché un n più 1 l'importante è chiarirsi queste idee perché su questi errorini 1 più 1 meno spesso si casca ci sono poi dei dettagli che conviene chiarire una volta per tutte altrimenti ogni volta ogni volta che si ha una riga di codice impazziamo a ricordarci se dobbiamo sommare sotto R1 quindi la condizione di terminazione per noi è se il livello ha raggiunto il valore n più 1 allora se ha raggiunto il valore n più 1 dobbiamo andare a calcolare la lunghezza del cammino e confrontarla col massimo che abbiamo ottenuto finora allora come al solito noi dobbiamo predisporci per la ricorsione quindi delle variabili di stato per lo stato della ricorsione che saranno il peso massimo visto che potremmo essere un double sappiamo che i pesi sono interi ma la procedura la possiamo scrivere più in generale peso non si peso max e un private lista di stringa cammino max che via via andremo a copiarci dentro la soluzione migliore e quindi qui dentro ci mettiamo la soluzione migliore soluzione migliore che possiamo semplicemente verificare se il peso se ho solo una posizione terminale posso calcolare il peso del cammino inventiamoci una procedura che ce lo calcoli peso cammino parziale e poi se peso fosse maggiore del peso max che conosco dis punto peso max allora aggiorno al massimo dis punto peso max sarà uguale peso e dis punto cammino max ci devo copiare la soluzione parziale attuale ricordiamoci dobbiamo clonare la lista e non semplicemente copiare un riferimento quindi uguale new array list copiandoci dentro da parziale e abbiamo salvato la soluzione migliore ci rimane da fare questo metodo peso cammino che poi molto semplice nel senso che per ogni vertice dovrà sommare semplicemente il peso degli archi e va bene quindi avrò il vertice precedente e poi tutti quelli successivi quindi posso fare conviene probabilmente fare un'iterazione usando un ciclo for uguale 1 quindi parto dal secondo vertice perché devo fare il peso dell'arco da quello precedente a lui i minore di parziale punto size i più più dopo il peso uguale 0 e quindi dovrò calcolare il peso dell'arco che va da i-1 a i e quindi calcolare il peso dell'arco l'ho già fatto prima andiamo a prendere come si fa questo quindi semplicemente dovrò fare un double p diciamo il peso di quest'ultimo arco è il peso dell'arco relativo all'arco che va da chi a chi va da parziale punto get di i-1 e ovviamente la prima iterazione quando i vale 1 sto prendendo get di 0 cioè il vertice di partenza fino a parziale punto get di quindi una volta che ho questo peso dell'ultimo arco peso si verrà incrementato di p e alla fine ritorno peso questo non è il massimo dell'efficienza questa cosa qua perché vado a interrogare più volte il grafo potrei farlo anche in modo incrementale man mano che aggiungo un grafo un arco calcolo il suo peso però diciamo così per il momento costruiamo qualcosa di funzionale poi se ci accorgessimo che questa funzione diventa critica per l'efficienza la andremo a sistemare ma ricordiamoci che viene chiamata solamente nel caso terminale quindi molto molto raramente il caso principale è quello della ricorsione vera propria allora qui abbiamo sistemato quello che dovrebbe essere il caso terminale passiamo al caso normale il caso normale è abbastanza semplice perché basta andare a visitare dato un vertice visitare tutti i suoi adiacenti quindi gli adiacenti di chi? beh del vertice finale dell'ultimo vertice della mia stringa della soluzione parziale attuale quindi vado a visitare list di string vicini semplicemente prendendo i graph in neighbor list su questo grafo del vertice ultimo a cui sono arrivato quindi parziale punto get di livello meno 1 attenzione livello meno 1 perché chiaramente qua quando livello è uguale a 1 devo prendere il vertice di 0 quando livello è uguale a 2 avrò posizione 0 posizione 1 e quella le adiacenti degli elementi in posizione 1 e la soluzione parziale e così via e quindi qua prendo l'ultimo vertice che ho quello in posizione di livello meno 1 cioè size meno 1 della realist e ne calcolo i vicini su questi vicini dovrò scendere ricorsivamente su tutti quelli che non sono ancora stati presi nella soluzione parziale corrente quindi iter sui vicini for string v due punti vicini iter sui vicini e mi chiedo se il vicino non è ancora stato preso nella soluzione parziale not parziale contains v quindi se questo v non è ancora preso nella soluzione parziale lo devo aggiungere lo devo aggiungere allora faccio ricorsione parziale punto add dv scendo ricorsivamente search parziale livello più 1 n e ovviamente backtracking parziale punto remove parziale punto size meno 1 questo oramai abbiamo aggiunto un elemento e poi subito dopo dopo aver testato ricorsivamente se questo elemento mi ha portato al massimo lo rimuovo sarà possibile ovviamente che questo ciclo non porti a nulla nel senso che se a un certo punto arriva a certi vertici i cui adiacenti sono già stati tutti presi può darsi che io non riesca a proseguire con la ricorsione e quindi non riesca ad arrivare a livello n ma questo non è un problema semplicemente la ricorsione si interrompe prima senza fare chiamate successive quindi può darsi che si interrompa prima di raggiungere gli n livelli se invece vado avanti raggiungo gli n livelli prima o poi troverò la condizione di terminazione che che ho dimenticato di scrivere return e questo sarebbe molto grave è molto grave perché senza questo return lui calcolerebbe il peso massimo e poi andrebbe avanti a cercare i suoi figli successivamente andrebbe ancora avanti a cercare i percorsi anche più lunghi di n e ovviamente se è maggiore di n più non capita nella condizione di terminazione quindi va a espandere tutti i possibili percorsi del grafo di qualunque lunghezza che ovviamente non è quello che ci serve quindi ricordiamoci questo ok a occhio poi chiaramente potrebbero esserci dei bacchi che cercheremo di risolvere la parte di ricorsione è fatta nel senso che abbiamo la discesa ricorsiva la ricerca dei vicini quindi delle soluzioni candidate possibili sono queste tre righe essenzialmente la discesa ricorsiva il backtracking il caso terminale ci rimane semplicemente l'avvio della ricorsione quindi la funzione public void cerca un po' più che void facciamo restituire ci pensiamo dopo cosa fare restituire cerca cammino che riceve come parametro n perché n è definito dall'utente tramite il controller cerca cammino dovrà predefinire tutte le variabili che vengono usate all'interno della ricorsione vera e propria e poi lanciare la prima iterazione della ricorsione allora le due variabili sono ovviamente il cammino max che inizialmente non è noto quindi lo metto null dis.peso max lo posso mettere a zero quindi per ora non conosco nessun cammino e quindi non ho nessun peso già noto finora e poi inserirò una soluzione parziale quindi list di string string parziale uguale new array list di string a questo punto dovrei avere tutto per poter fare partire la ricerca ricorsiva search di parziale livello u ah no ho dimenticato un pezzo scusatemi 1 n il pezzo che ho dimenticato è il vertice di partenza quindi in realtà dovrò anche avere perché ho due parametri di ricerca quanto è lungo il cammino e qual è il vertice di partenza allora io creo questa r list vuota ma la soluzione parziale deve già partire col primo elemento quindi sarà parziale punto add di partenza quindi cosa ho fatto qua ho inizializzato le due variabili che mi servono per tenere traccia del massimo null l'ho inizializzato così il cammino se per caso al termine della ricorsione sarà ancora null vuol dire che non sono riuscito a trovare manco un percorso di lunghezza n e quindi vuol dire che non esiste nessuna soluzione non esiste un percorso se ne esiste almeno uno avrà un peso che è ovviamente maggiore di zero e noi lo andiamo a memorizzare poi inizializzo la soluzione parziale per la prima chiamata è diverso dal solito perché di solito partivamo con una soluzione parziale vuota in questo caso la soluzione parziale in realtà deve già contenere il primo vertice quindi l'ho ricevuto come parametro partenza e l'ho già aggiunto come primo elemento questo primo elemento non verrà mai tolto infatti parto già dal livello uguale a uno e non dal livello uguale a zero fatto tutto questo lavoro non contenga cicli nei vertici ripetuti questa in realtà è la stessa cosa a dire contiene un ciclo e contiene un vertice noi questo l'abbiamo verificato qui che il vertice che stiamo per raggiungere non ci sia già e quindi non si crei un ciclo al termine dovrà stampare il cammino indicando i tipi di porzione incontrati e il peso totale del cammino trovato vabbè questo è facile perché a questo punto questi due valori il tipo di porzione incontrati e il peso totale del cammino li abbiamo proprio in queste due variabili che sono cammino max e peso max quindi basterà che noi forniamo due getter per questi due per queste due variabili al nostro al nostro model e così il controller lo potrà chiamare facilmente quindi peso max possiamo aggiungere getter e setter per abbiamo detto peso max il getter e anche per cammino max un getter così dall'esterno possono conoscere questi valori adesso li abbiamo messi qua e non mi piace tanto li sposto sotto in fondo qua ok allora può darsi che funzioni per verificarlo andiamo a prenderci il controller foot controller e implementiamo la funzionalità di do cammino cerco il cammino il peso massimo allora in questo caso prima di avviare la ricorsione io devo prendere due informazioni la porzione e questo lo rubo da correlate perché esattamente devo fare la stessa cosa andare a vedere qual è la porzione di partenza e poi devo andare a prendere anche il numero n quindi il valore n lo posso prendere con integer n try n uguale integer.parsint parse int della stringa che ottengo da txt passi punto get value get text scusate get text e se questo va bene l'n è l'n che mi serve altrimenti catch number format exception exception txt result punto add append text di errore il valore txt passi punto get text non è un byte o un numero intero non è un numero intero intero a capo chiusa torna punto virgola return quindi esco dall'eventender se invece ho entrambi i valori quindi la porzione e n potrò chiamare la procedura ricorsiva e quindi chiamerò model punto cerca cammino partendo dalla porzione di partenza per numero di passi pari n e alla fine potrò stampare nel risultato se tutto va bene se tutto va bene allora innanzitutto mi chiederò se model punto get cammino max diverso da null facciamo prima se è uguale a null mettiamo l'errore prima se non ho trovato nulla dirò sommessamente che non esiste un cammino minimo cammino cammino massimo non ho trovato un cammino di lunghezza n e mi fermo qua non ho proprio trovato nessun cammino di lunghezza n che fosse non ciclico senza vertici ripetuti perché se ne avessi trovato almeno uno mi sarà dovrà essere risultato quindi dovrà essere diciamo dovrà esistere almeno quel cammino indipendentemente dal suo peso poi model cammino max poi il passo successivo è quello se a questo punto il cammino c'è qui non è null else vado a stamparlo quindi txtresult punto appende cosa ho scritto result append niente ce la farò punto append text ho trovato un cammino di peso e qui posso scrivere il peso più model punto get peso massimo più la capo finale e poi a questo punto for string vertice uguale model punto get cammino max che so che non è nullo non uguale due punti devo tirare per tutti gli elementi del cammino massimo semplicemente lo stamperò txtresult punto append text vertice più n ok e questo dovrebbe stampare il risultato incrociamo le dita e verifichiamo se funziona allora partiamo dal grafo piccolo dei valori piccoli di n per non farci del male magari vi ho detto partiamo da 10 calorie eccolo qua tipo di porzione che non so can sappiamo che dei correlati passi non so 5 trovato un cammino di peso 55 can cap tablespoon packet teaspoon individual packet quindi sono 1 2 3 4 5 6 elementi come volevamo perché il cammino ha 5 archi e quindi 6 vertici se io andassi avanti vorrei cercare un cammino di peso 8 lo trova stranamente è un peso inferiore però non è detto perché magari non posso riusare il cammino precedente che aveva peso 55 perché devo riuscire ad andare avanti magari di là non ce la facevo volevo provare un attimo a trovare un cammino anche di lunghezza 30 chissà se ce la fa ecco non l'ha trovato non l'ha trovato un cammino di lunghezza n di lunghezza n pari a 30 perché probabilmente questo noi sappiamo che questo grafo contiene 57 vertici però ha solo 81 archi non è molto denso quindi può darsi che un cammino semplice non ciclico di lunghezza 30 non esista tra l'altro noi ci aspettavamo un qualcosa elevato a 30 come complessità quindi un certo tempo di esecuzione vediamo che in realtà la risposta è praticamente immediata grazie proprio al fatto che il grafo è un grafo molto sparso molto poco denso possiamo provare magari con un grafo più grande vedete cosa succede però lì sono 100 400 vertici prendiamo prendiamo qualcosa di sempre a Ken vediamo cosa succede cammino da 5 in questo caso cammino di perio 54 cammino di 8 vertici cammino di perio 72 cammino di 15 vertici comincia già a richiedere ovviamente più tempo perché a questo punto il valore di n cresce e effettivamente è un grafo più denso ha più informazione più vertici e quindi la ricorsione sta cercando tra un numero maggiore di elementi però sembra almeno per quanto ci pare di vedere che stia trovando delle soluzioni ragionevoli nel senso sia in termini di peso sia in termini di elementi è chiaro che poi bisognerà andare a vedere non escludo non possiamo escludere che ci siano dei problemi per cui il cammino magari non sia esattamente quello ottimale non sia quello potrebbe essere appunto per qualche piccolo bacco non escludo che ci possa esistere però il grosso del codice dovrebbe essere corretto allora mentre questo sta provando a calcolare il cammino da 15 semplicemente ridiamo un'occhiata al codice che abbiamo scritto come molto spesso succede la ricorsione può essere magari diciamo così un po' ardua un po' complessa da comprendere ma poi è abbastanza breve da scrivere perché come abbiamo visto la procedura ricorsiva è questa questa è la parte di codice che è deciso il caso terminale che si appoggia su questa banale funzione di calcolo del peso questa è la parte di codice che si appoggia sul caso ricorsivo dove anche qua il grosso del lavoro lo fa il jgraph t che mi va a prendere i vicini io devo semplicemente evitare di prendere più volte lo stesso vicino e poi ho sempre il solito codice ricorsione aggiunta ricorsione e backtracking e poi ci sono queste quattro righe che sono essenzialmente l'avvio della ricorsione stessa e quindi inizializza queste variabili che mi servono per il calcolo del massimo e la soluzione parziale in modo adeguato alla prima iterazione della ricorsione stessa questo signore qua nel frattempo mentre chiacchieravamo ha trovato un cammino di peso 90 lungo 15 archi quindi parte da Ken e va avanti come si vede ovviamente nessun elemento è ripetuto e quindi il cammino è effettivamente lungo 15 archi e quindi toccherà 16 vertici diversi perché è un cammino non chiuso quindi non torna al vertice di partenza e ha un peso che l'algoritmo ricorsivo ha calcolato come pari a 90 che è il valore massimo quindi questo poco codice è in grado di risolvere il punto 2 dell'esercizio stampando appunto sia il cammino cioè i tipi di porzione incontrati e il peso totale abbiamo stampato entrambe le informazioni e il tipo di cammino che abbiamo calcolato è esattamente compatibile con quanto è stato richiesto il punto B quindi con questo con queste poche righe di ricorsione abbiamo concluso anche il punto 2 di questo esercizio e con questo concludiamo l'intero esercizio e concludiamo anche l'intero corso ci rivediamo all'esame grazie arrivederci grazie a tutti